Buongiorno a tutti dal vostro amico Zelletta, sentite sta barzelletta Allora, c'è sta un'oculista, stava a chiudere lo studio Era sera, per 6-8, sta per ritornarsene a casa, aveva finito da lavorare A un certo punto, mentre stava a metà posto per chiudere tutto Gli entra una donna tutta provocante Innamorata un metro e novanta, tutta fasciata con vestito, tutta attillato Carzare di tacchi a spillo Entra, questo appena vede, buonasera Il dottore subito dica Il dottore, lei è un'oculista, vero? Dice sì, sì, mi dica Me lo metta subito dietro Il dottore subito, cosa? Cominciò a barbettare Cosa? Senta, io sono un'oculista, ha capito? Sì, ho capito Me lo metta subito dietro, dottore, la prego Allora lui Ma io sono un'oculista Guardi che so di carne ed ossa come tutti gli altri Non so di legno, signor Si è in campana Dai, me lo metta dietro Questo se spogliano 4 e 4 otto non ci mette un attimo Bu, e io lo metto dietro E questa è ancora più forte Questo piano in corsa da 2 metri Ancora più forte Piano in corsa 10 metri Ah, ecco, basta dottore A sto punto mi lacrimono sempre l'occhio È normale? Ah, ecco, a sto punto mi faccio